Noi cristiani siamo benedetti perché scelti da Dio, perché perdonati e perché in cammino. I veri cristiani non sono anonimi, non sono superbi e non sono fermi. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa del Mattino, celebrata a Casa Santa Marta, ha preso spunto dalla lettera di San Paolo agli Efesini, contenuta nella liturgia odierna. Lo ha fatto per sottolineare che l'identità cristiana è data dall'essere stati benedetti da Dio, che ci ha scelti uno ad uno. Pensiamo a una copia quando aspetta un bambino, come sarà, come sarà il suo sorriso, come parlerà. Io osso dire che anche noi, ognuno di noi è stato sognato dal padre, come un papà e una mamma sognano il figlio che aspettano. E questo ti dà una sicurezza grande. Il padre ti ha voluto a te, non a quella massa di gente, no, a te, a te, a te, a ognuno di noi. E questo è il fondamento, è la base del nostro rapporto con Dio. Noi parliamo di un padre che ci vuole bene, che ci ha scelti, che ci ha dato un nome. Il cristiano poi è una persona perdonata. Chi non si sente perdonato da Dio non è pienamente cristiano, ma preso dalla superbia come il diavolo. Infine il cristiano, ha concluso il Papa, è una persona in cammino verso la pienezza. Non si può capire il cristiano fermo. Siamo sempre in cammino e cerchiamo di fare il bene, di andare avanti. Grazie. Grazie.